Noi, gli anziani, possiamo ricordare ai giovani ambiziosi che una vita senza amore è una vita arida. Possiamo dire ai giovani paurosi che l'angoscia del futuro può essere vinta. Possiamo insegnare ai giovani troppo innamorati di sé stessi che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. I nonni e le nonne formano la corale permanente di un grande santuario spirituale dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita. Sono stati ancora i nonni i protagonisti della catechesi di Papa Francesco per l'udienza generale. A quanti si sono radunati in piazza San Pietro per l'appuntamento del mercoledì, il pontificio ha ricordato la ricchezza inestimabile degli anziani, una grande iniezione di saggezza per l'intera società umana, soprattutto per quella che è troppo indaffarata, troppo presa, troppo distratta. Anche se il mondo cerca di scartarli, i nonni e le nonne hanno ancora molto da fare e da dare, soprattutto ai giovani. Papa Bergoglio ha ricordato l'esempio di Benedetto XVI, come pure i suoi ricordi personali, per invitare tutti a non gettare la spugna e a coltivare la preghiera, che previene l'indurimento del cuore nel risentimento e nell'egoismo. È davvero brutto, ha concluso, il cinismo di un anziano che ha perso il senso della sua testimonianza, disprezza i giovani e non comunica una sapienza di vita, mentre è bello l'incoraggiamento che l'anziano riesce a trasmettere al giovane in cerca del senso della fede e dell'esistenza.